In provincia di Teramo la terribile forza del vento ha creato numerosi danni. Il territorio più flagellato è stato quello di Silvi, dove le raffiche hanno sfiorato i 150 km orari. Tantissimi gli alberi finite a terra, con alcuni tratti di via Roma rimasti interdetti al traffico, così come avvenuto in via Santa Lucia. Il vento inoltre ha provocato anche la caduta di alcune lastre di rivestimento della facciata di un hotel, in particolare nella parte in cui si trova un ascensore panoramico. A Silvi Paese danni all'edificio della scuola primaria, chiusa dal comune con i bambini portati in altra struttura. Abbiamo avuto una nottata impressionante, difficile, soprattutto per i danni ingenti alle cose. Per fortuna non ci sono stati danni alle persone, però naturalmente la popolazione è stata in difficoltà, soprattutto per quello che si è creato, un uragano che ha travolto la nostra cittadina, facendo, come ho detto, questi numerosi danni. Fortunatamente non si sono registrati danni alle persone, ingenti quelli causati a scuole ed edifici pubblici e privati. Con tetti scoperchiati sulla collina, insegne distrutte, illuminazione dello stadio danneggiato e mura di casa colpite da pini secolari, per questo motivo il comune ha avviato l'iter per chiedere lo stato di emergenza. Naturalmente in contatto con il prefetto e con la protezione civile regionale abbiamo manifestato e evidenziato la situazione che c'è sulla città e siamo pronti a chiedere lo stato di calamità anche per un ristoro per la popolazione. La cosa che preoccupa è che nelle prossime ore potrebbe tornare il forte vento. Sì, sì, ci stiamo attivando anche per prevenire questa situazione. Abbiamo aperto il COC, stiamo monitorando intanto, facendo la conta dei danni, soprattutto alle situazioni più critiche. Stiamo infatti portando avanti con i nostri tecnici, con le squadre, con gli operai la messa in sicurezza dei tanti cornicioni, alberi che sono caduti e naturalmente abbiamo danni anche alle strutture private come ad esempio l'hotel Presidente che ha perso tutto l'ascensore panoramico di 14 piani che è veramente un danno ingente per la città. Che appello vuole fare ai cittadini? Naturalmente la prevenzione è soprattutto di stare attenti, di stare a casa, di non muoversi in quelle ore in cui si verificano queste condizioni meteo estreme perché naturalmente la prevenzione e la sicurezza partono da noi e soprattutto nel rispetto delle norme e delle regole.